Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in provincia di Cosenza per un evento teatrale che si chiama appunto la Tango Blio uno degli eventi diciamo che sono proprio qui sul territorio in compagnia di Dante De Rose dalla mia destra e dall'altra parte invece abbiamo Marco Silani, giusto? Perfetto, adesso chiederemo innanzitutto a Dante di cosa si occupa esattamente Dante ma soprattutto di come si svolgerà questa serata e esattamente come mai la location è stata scelta appunto qui, Cleto nel bellissimo castello di Savuto inaugurato da pochissimo Intanto io e Marco Silani siamo direttori artistici di un progetto che si chiama Distribuzione Teatro Calabria un progetto che gestisce l'Associazione Teatro della Ginestra e vincitore di un bando regionale del 2016 Tango Blio apre proprio questo circuito, comincia la distribuzione di 16 titoli di spettacoli diversi per 42 repliche in tutta la provincia di Cosenza ma che diventeranno 126 in tutta la Calabria perché questo progetto poi è appoggiato anche dall'Associazione Porta Cenere diretta da Mario Massaro che gestirà questo minicircuito nelle province di Catanzaro, Vibo Valencia e Crotone e dall'Associazione Officina Ioniche Arti diretta da Maria Milasi che gestirà il circuito nella provincia di Reggio Calabria Tango Blio apre questa rassegna, questo circuito appunto dove seguiranno a Cleto un altro spettacolo, il 22 di Pirandello, L'Uomo, la Bessia e la Virtù prodotto e portato avanti dalla compagnia alla linea sottile diretta da Massimo Costabile però poi avremo in questo periodo altre location come Torano, Montalto Fugo, Sibari dove verranno replicati appunto 42 spettacoli totalmente Da cosa è nata questa voglia di costituire un'associazione che mi pare, se non l'ho letto male, è nata ad aprile o a maggio? No, in effetti l'associazione è nata ad aprile ma del 1995 Ah ok, perfetto Diciamo che sono 22 anni che opera nel territorio calabresi, ha gestito già una residenza teatrale ha fatto coproduzioni internazionali, abbiamo debutato anche al Festival di Teatro Internazionale dell'Havana in Cuba ovviamente e abbiamo partecipato a questo bando che è un pack del 2016 e siamo risultati vincitori Facciamo teatro da più di 30 anni insieme a Marco e a tutti coloro che in qualche maniera sono soci o vicini alla nostra associazione A questo punto chiederei a Marco l'importanza sul territorio di sviluppare tecniche magari sempre nuove o che comunque abbiano la capacità di attirare sempre maggior pubblico e quindi valorizzare il territorio Sì, assolutamente questo circuito diciamo che dovrebbe essere proprio come diciamo un volano un trampolino di lancio in modo particolare proprio per come era previsto dal bando per le compagnie calabresi che spesso non trovano spazi non ci sono spazi dove poter, una volta fatta una produzione ovviamente che ha un suo costo e poi rimaneva ferma le due o tre repliche e con questo bando dove noi abbiamo vinto abbiamo deciso di mettere il 100% di calabrese e come dicevi tu abbiamo svariato molto dal teatro per ragazzi al teatro danza al teatro più impegnato insomma tutti i generi per accontentare tutti i gusti ma principalmente per far vedere che in Calabria c'è tanto movimento e persone insomma capaci in ogni settore Per rintracciarvi quindi per fare parte o comunque per sostenervi nelle vostre iniziative sul territorio come è possibile diciamo farlo? Bene, intanto seguendo gli spettacoli ovviamente per saperlo abbiamo due pagine una pagina su Facebook che è di Teca Nord mi pare e poi c'è sempre il sito che è www.dteca.it ecco quindi da lì ci sono tutti i programmi si può seguire dove siamo, con quali spettacoli, in quali posti per esempio stasera c'era già scritto che eravamo qui in questo splendido posto che è Cleto insomma che è veramente molto bello Io per concludere volevo chiedere a Dante un'ultima cosa la scelta appunto di una location come quella di Cleto è fatta penso io ad arte anche perché è difficile non individuare nel castello di Cleto ma in altri castelli probabilmente in altre location sempre in Calabria una sorta di connotazione all'arte che è quello che voi poi fate sul territorio Guarda la scelta di Cleto è stata veramente voluta intanto io ringrazio Fedele Montuoro perché è stato uno dei promotori che ci ha contattato perché io e Marco visionassimo questo spazio per capire proprio se c'erano le possibilità, la logistica se potesse prestarsi pure ad ospitare eventi di teatro, di danza o comunque di spettacolo è chiaro che un luogo così suggestivo appena siamo entrati non abbiamo avuto dubbi, non abbiamo avuto alcun dubbio a determinare e fra l'altro abbiamo proprio scelto lo spettacolo del tango perché si presta abbastanza, io mi auguro che stasera rimanete a vederlo così vi renderete conto di questa location come influisce proprio sullo spettacolo poi ovviamente il progetto, il bando che ha bandito appunto la regione è il progetto che abbiamo noi fatto e abbiamo vinto prevedeva anche la possibilità di creare quelle, come si può, connessioni fra quello che è un monumento, un'architettura storica qualcosa che possa avere a che fare con le belle arti eccetera un luogo particolare per ospitare proprio in modo che un turista che stasera vuole venire a vedere il castello vede anche lo spettacolo, ma uno spettatore che vuole vedere lo spettacolo vede anche il castello, quindi c'è proprio una sinergia fra le due attività Quindi a questo punto io vi invito a seguire il calendario di spettacoli che ci sarà sicuramente sui siti che comunque poi andranno in sovrimpressione per questa iniziativa lodevole non soltanto di Cleto per aver ospitato la compagnia teatrale ma soprattutto per questa vincita di questo bando che è da sottolineare per la nostra regione che è un altro vanto, penso io e a questo punto lo vorrei dire a Marco se è un vanto per la regione Calabria essere titolari di un qualcosa che le dà risalto in Italia e penso anche nel mondo Assolutamente sì, io credo che bisogna sempre valorizzare le cose belle che ci sono si parla spesso di Calabria in maniera negativa invece abbiamo tante cose belle come questo castello come questo circuito, come ripeto le attività, l'arte in generale per cui è sicuramente un vanto spero che in tanti seguano il circuito come diceva Dante, non tanto per lo spettacolo ma perché riesce, come si suol dire, a prendere due piccioni con una fava quindi a vedere posti splendidi e degli ottimi spettacoli Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto Grazie a tutti Grazie a tutti